Ehi, ehi, dico a voi, signori capoccioni della Gibson, ultimamente mi sono reso conto che c'è un mercato orientale che pullula di produzione di strumenti uguali, molto simili ai vostri, come design, ma non si limita a questo, sono strumenti che sono marchiati proprio con logo in madreperla e tanto di scritta Gibson e nel retro paletta made in USA con numero seriale analogo a quello che sono le vostre produzioni. Non lo so se non vi siate accorti di questo fenomeno o se lo snobbiate per il semplice fatto che la qualità costruttiva chiaramente è distante anni luce rispetto a quello che è la vostra produzione. Sta di fatto che ultimamente ho sistemato per due clienti cinque di questi modelli, di queste repliche, che devo dire da distante almeno due metri sono veramente carine e qualcuno potrebbe essere tratto in inganno nel senso che sono veramente del tutto simili, sono uguali a quelli che sono i modelli originali. Non appena li abbiamo sotto mano chiaramente ci rendiamo conto che la qualità costruttiva è un'altra cosa. Dunque oggi andiamo a vedere cinque validi motivi ma anche di più per non acquistare questi strumenti. Innanzitutto partiamo dal fatto che ogni singolo strumento mi ha assorbito ben oltre quattro ore di lavoro per renderlo suonabile. Le principali criticità che ho riscontrato, partirei da quella più importante, è la tastiera e il manico. Allora la tastiera è veramente rifinita in maniera infima di questi strumenti. Troviamo tasti che sono posati male, in uno strumento di questi ho trovato addirittura tre o quattro tasti segnati da un utensile che anche rettificando in maniera abbastanza pesantuccia non sono riuscito comunque a far sparire. I bordi dei tasti non sono proprio rifiniti quindi abbiamo dei bordi dei tastieri che sembrano dei cutter, dei taglierini nel momento in cui passiamo le mani. Quindi veramente molto molto disagevole da suonare. Teniamo presente anche che in due di questi modelli ho riscontrato problemi con il thrust rod nel senso che anche allentandolo del tutto il manico restava incurvato verso l'interno. Quindi problemi per quanto riguarda anche l'action di queste due chitarre. Passiamo ora a un altro problema che per carità è risolvibile ma anche il capotasto è di materiale scadente, parliamo di plastica comune e veramente posato in maniera non idonea. Ho riscontrato che le corde in quasi tutti gli strumenti uscivano almeno due millimetri o ben sopra i due millimetri per quanto riguarda l'altezza rispetto al primo tasto. Corde addirittura che erano di altezza diversa rispetto alle altre quindi ho dovuto smontare tutti i capotasti su tutti e cinque gli strumenti, abbassarli e poi riportare anche alla giusta altezza tutte le corde per avere un action che fosse omogenea su tutte quante le sei corde. Passiamo poi ad altre problematiche, le meccaniche su tutti gli strumenti sono comunque di qualità veramente scadente, nel senso che fanno fatica a tenere la cordatura nel momento in cui allentiamo e poi ridiamo tensione alle corde, sono molto imprecise, hanno l'asco quindi anche questo qua è un aspetto da tenere in considerazione. Altra cosa, suono, ho postato tre video e purtroppo mi aspettavo che qualcuno facesse anche dei commenti dove esprimeva dei dubbi, ma evidentemente nessuno ha colto il segno che questi strumenti erano delle repliche spuderatamente cinesi, non erano originali e i pick-up, devo dire, veramente anche qua suonano comunque da pick-up veramente economici. Altre problematiche che ho riscontrato per quanto riguarda per esempio la costruzione, gli alloggiamenti in uno degli strumenti, gli alloggiamenti, cioè i fori di alloggiamento del ponte e del blocco a corde, erano molto abbondanti rispetto ai pioli e di conseguenza nel momento in cui sono andato a rimontare le corde e a tentare di riaccordare la chitarra, ci mancava poco che il blocco a corde mi arrivasse nel naso. Come ultima cosa, sull'ultima replica che era quella Burbone Burst, che non lo so se sia uscita dalla stessa vita costruttrice degli altri, mi sembrava fosse leggermente migliore a livello di qualità costruttiva. Però abbiamo cambiato i pick-up, è sicuramente migliorata di molto dal punto di vista del suono, ma mi sono reso conto che anche la parte diciamo di elettronica e i potenziometri e anche il selettore sono assolutamente e necessariamente oggetto di upgrade se vogliamo avere un strumento con un minimo di suonabilità. Quindi vale la pena alla fine o no di acquistare questi strumenti? Consideriamo che sul mercato troviamo appunto queste repliche con prezzi che vanno dai 200 ai 300 euro. Teniamo presente che per avere, secondo la mia opinione, una chitarra suonabile dovete necessariamente passare per un liutaio, quindi spendere ulteriori soldi per sistemare sicuramente la tastiera, sistemare il capotasto e minimo per fare un upgrade decente andare a sostituire meccaniche, pick-up e potenziometri. Quindi alla fine avremo speso almeno 400 euro per avere sotto le mani uno strumento che dal punto di vista qualitativo magari suona come una Epiphone, però come qualità costruttiva è comunque inferiore. Quindi potete tranquillamente essere in disaccordo con quello che è la mia opinione, ma la mia opinione purtroppo è quella che non ne vale la pena. ma per dare anche un giudizio imparziale potremmo andare a sentire anche un'opinione di un esperto di quello che è l'economia e soprattutto la produzione cinese, una persona che lavora da anni e anni in questa realtà, che sicuramente ci può aiutare a capire di cosa stiamo parlando. Sì, la produzione c'è, la conosco bene, però c'è, se tu dai, cerci quanta dollari a un cinese per fare una replica di un Airspot e si deve far saltare fuori anche il costo della manodopera, ragazzi, c'è, c'è, i pick-up li avvolge con gli scarti di 40 anni fa, con il rame, degli scarti, del bel impianto, ha dismesso 40 anni fa, da lì va, il pick-up, il pick-up, su, i magneti, i magneti, i magneti, i ragazzi, ci manda su fino di 7 anni in giro a ciullare le Dinamo, delle Grazielle, di SIC, che vanno a spalmare il giro per la cassetta della posta, ai volantini dell'IKEA, c'è, 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 ragazzi, il legno poi, il legno, il legno, ragazzi, c'è, va a recuperare praticamente le cassette dismesse dai raccogliettori extracomunitari, di pomodori, della Basilicata, di incolla con Binaville, ragazzi, c'è, con queste caratteristiche costruttive, cosa volete che ne esca, ne esca, sicuramente uno strumento che sollerà di merda. Grazie a tutti.